Buonasera, ben trovati alle TG Med Sport, Palermo che ha sostenuto un amichevole nel pomeriggio contro una squadra mista formata da lievi nazionali e alcuni elementi della primavera di Bosi, primavera che domani gioca contro il Crotone. Per il Palermo invece l'impegno di campionato è lunedì sera alle 20.30 a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia di Braia, ultima in classifica, delle defezioni sapete con ovviamente la squalifica di Lafferty, rientrato ieri sera a Palermo insieme all'altro nazionale Uicani che di fatto andrà in panchina. Lafferty invece è squalificato dal giudice sportivo, quindi due giocatori che comunque a prescindere non faranno parte dell'11 titolare di Beppe Iachini, così come Valerio Verre che con un giorno d'anticipa era rientrato dall'impegno con la nazionale Under 20, ma che allo stesso modo probabilmente non farà parte della formazione titolare, anche perché Bolzoni ha dato delle risposte confortanti e dunque dovrebbe giocare a centrocampo insieme a Maresca e Barreto. Questo perché come vi abbiamo raccontato nelle precedenti edizioni le polemiche di Empoli ed Avellino per bocca dei loro allenatori, Maurizio Sarri per l'Empoli, Massimo Rastelli per l'Avellino con un campionato totalmente falsato addirittura per Sarri e invece per Rastelli una par condicio che non esiste in Serie B. Di fatto però è una polemica assolutamente sterile perché il Palermo che giocherà sì lunedì, dunque avrà qualche giorno in più anche per far recuperare i nazionali, in realtà di questi nazionali non eschererà nemmeno uno, almeno nell'11 titolare. Dunque questa la polemica archiviata, ci saranno ovviamente ancora allenamenti prima poi della partenza per Castellammare e Stabilo, ricordiamo si gioca lunedì alle 20.30. Gioca invece domani il Trapani, lo fa alle 15 contro il Siena, partita importante, Trapani che si vuole lasciare alle spalle soprattutto le polemiche di Cesena con il gol fantasma. Invece sempre domani ma alle 20.45 il Catania in anticipo contro il Cagliari al Massimino, una partita fondamentale dal sito trmweb.it. Andiamo nella sezione sport per controllare proprio il notiziario relativo alle Catania con la bella notizia per il tecnico Rolando Maran perché Barrientos è fra i convocati. Dunque c'è Barrientos fra i convocati della sfida di domani sera. Per quanto riguarda sempre il Catania e sempre nella sezione sport possiamo ritrovare le parole di Gonzalo Bergessio. Un Gonzalo Bergessio che rientra dopo il turno di squalifica che dice serve al Catania l'aiuto del pubblico. Ascoltiamo proprio le parole dell'attaccante rossazzurro. Magari si gioca di maniera diversa, si difende un po' di più e facciamo fatica a creare le situazioni per segnare. Penso che sia questo il principale motivo. Spero di fare bene il mio lavoro, di poter segnare e soprattutto di dare una mano ai miei compagni nella fase difensiva e dopo segnare un gol per vincere, soltanto questo. Penso che posso dare una mano in più alla squadra, niente di più, come faccio o cerco di fare il solito. Penso che Papu è un giocatore importante, come sappiamo, ma noi abbiamo avuto tante difficoltà e infortunati in tutta la squadra, durante tutto l'anno. E' vero che siamo una squadra corta, non siamo come quelle grandi che hanno due possibilità per posto. Quindi penso che ci sono altri compagni che pure mi danno una mano, soltanto quando va storta una cosa e dopo diventa più difficile tutto. Quindi credo che siamo in un periodo così e penso che ancora manca tanto e possiamo salvarci. E questo è l'importante. Dopo spero di segnare qualche gol fino alla fine e mettermi a posto fisicamente e che il Catania continua in Serie A, niente di più. No, pressione no, ho quasi 30 anni, ho giocato in tanti posti, pressione no. Penso che quando si prende tanti gol e si segna poco è un problema della squadra, non solo degli attaccanti. però va bene, io capisco che voi per volte parlate delle cose di una maniera che è diversa da quella che penso io. Però è chiaro, le statistiche sono così. Si segna poco, si prende tanto gol e si deve migliorare fino alla fine. Lotteremo per salvarci e così fino alla fine. Quello che mola perde, quindi non mi interessa altro che il Catania continua in Serie A. Ovviamente dobbiamo migliorare, è chiaro. Sempre dal sito trmweb.it Per quanto riguarda la partita delle Messina, che è in campo a Cosenza, le immagini le vedremo domani nel corso dell'edizione del pranzo. Avete visto anche il rientro di Lafferty e Uicani. Noi lasciamo il calcio e invece apriamo la pagina dedicata al football americano, perché in seconda divisione c'è stato l'esordio, non soltanto per i Sharks Palermo, ma anche per i Cardinals. Dunque le due squadre palermitane che hanno esordito nella prima giornata. Vittoria 32-0 contro i Crusaders Cagliari per i Cardinals. Invece una sconfitta per 16-0 dagli Elephants Catania in trasferta per l'altra squadra palermitana. Tra l'altro questo alla vigilia del derby di domenica. Si giocherà al velodromo, derby proprio tra Cardinals e Sharks. Noi abbiamo provato a conoscere un po' di più l'ambiente Cardinals. Quest'anno abbiamo almeno una decina di nuovi inserimenti. Abbiamo i soliti vecchi dell'anno scorso che si comportano abbastanza bene. E insomma speriamo di farcela. Abbiamo fatto veramente quattro mesi, quasi cinque, di allenamento pesante. E' uno sport complicato, però è molto, molto, molto divertente. E forse lo sport di squadra è il più divertente che esiste nel panorama dello sport mondiale. Soprattutto le scuole, le università. E' quello... E' il vivaio più... Il bacino più importante. E' il football. E' una scuola di vita, non soltanto un gioco. E' una scuola di vita e lo si vede perché molti di questi giocatori alla fine rimangono amici per la vita. Questo è uno degli insegnamenti più grandi che il football ti dà. Quest'anno esordiamo per la prima volta il velodromo. Di solito il nostro campo è stato... Abbiamo un po' vagato in città, diciamo, una ricerca di vari campi. Quest'anno il Comune ci ha messo a disposizione il velodromo, anche se non è un impianto in condizioni eccezionali. Però, diciamo, apprezziamo la buona volontà per venire incontro quest'anno alle squadre di vertice dei campionati che svolgono attività nel Comune di Palermo. Il nostro obiettivo è dare un'altra tipologia di offerta sportiva. Il problema fondamentale è la gestione, avere risorse, trovare risorse economiche soprattutto. Perché devo dire che in questi anni il seguito sportivo c'è stato. Cioè, i ragazzi ci sono, partecipano tutti, ognuno si dà da fare. Diciamo, da questo punto di vista siamo soddisfatti. Poi, per tutto il resto, insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Via Francesco Crispi, numero 290, a Palermo. Infoline 388 9088 192